Allora, il caro Mario Balotelli, che adesso gioca nel Manchester City, come tutti sapete, ne ha combinato un'altra delle sue. Si è fatto cacciare nell'ultima partita, non solo si è fatto cacciare per doppia munizione, ma ha anche commesso un altro fallo, non visto dall'arbitro. È un fallo molto brutto, molto duro, e rischia in tutto nove giornate, perché con la prova televisiva, con il fatto che è anche recidivo, perché è già stato espulso, in più un'altra espulsione gli toccherebbe per quest'altro fallo non visto, rischia nove giornate. Mancini, arrabbiatissimo, l'ha scaricato, gli ha detto non ti farò giocare più, credo manchino sei giornate, e quindi il povero Mario sarà costretto a vedere le partite dalla tribuna. Cosa sta facendo adesso? Si sta raccomandando a Cesare Brandelli, sta dicendo, caro Cesare fammi giocare però agli europei, mi raccomando, convocali. Io do un consiglio, se posso permettermi di darmi un consiglio, a Cesare Brandelli di non portarselo, ma non perché non sia bravo, ma perché rischierà di farci rimanere in dieci, rischia di compromettere quello che è il cammino di questo campionato europeo, sicuramente per il tipo di comportamento che ha, non merita proprio la convocazione. Io spero veramente che Cesare Brandelli non lo porti con sé, non lo convochi nella rosa dei giocatori.